Vicine da allora ci resta un cappolo, un sumo che è stata una buonissima prestazione per i tre quarti, adesso c'è stata la continuità dell'ultimo quarto e se ne vanno finalmente questa vittoria. Sì, più che altro l'ansia della vittoria è per voi. Noi sappiamo che mettere insieme una squadra giovane col tipo di palacanese che facciamo noi si è si data di tempo. E quindi di conseguenza non è una cosa facile da fare in poco tempo e il risultato ne è la conseguenza. Tutto che per me è importante sicuramente è stata la difesa dell'ultimo quarto, che significa mentalità, significa il nostro modo di giocare ed è il modo che si costruisce con il tempo. Oggi fortunatamente è stato un bel segnale questo perché tutti devono capire che è questo il modo in cui noi dobbiamo giocare. Qua è di mentalità e di difesa di fare quello che serve alla squadra e dopo la vittoria è la conseguenza naturale.